Coach Michele Belletti, domenica comincia il campionato per la Vinaville Cipir Domodossola contro la Mami Auleggio, subito derby. Direi finalmente, non vedevamo l'ora di iniziare, abbiamo una bella occasione di giocarci il nostro derby e questo esordio in Serie B in casa, con il nostro pubblico. Ecco, le chiavi della partita, gli infortunati stanno tutti bene, state in allenamento, state preparando le ultime cose. Faremo in modo di presentarci nelle migliori condizioni possibili, non nascondiamo di aver avuto qualche difficoltà in questo precampionato, ma il bello di essere alla prima giornata fa sì che ci mettiamo tutto da parte e siamo pronti per giocare contro Auleggio. Ecco, ti chiedo l'ultima cosa, che avversario è Auleggio, è un avversario tosto in derby? È un avversario tosto, è un avversario di categoria, è una società che ormai da qualche anno mantiene giusto giustamente questa categoria, è un convegno di tutto rispetto, sono una squadra di stazza in tutti i ruoli, con qualche elemento di esperienza come pilotti e gallazzi che hanno tutti nelle mani e elementi invece di intra-traino come Hidalgo e Valentini che spingono forte tutto campo. Grazie. Grazie.